Con le nostre strade siamo arrivati in Monferrato, antica regione piemontese che si estende per lo più nella provincia di Alessandria e in misura minore in quella di Asti. Suddiviso in alto Monferrato a sud e basso Monferrato a nord, ha un territorio prevalentemente collinoso ed i suoi poggi danno vita ad alcuni dei vini più pregiati del Piemonte. Punto di partenza di questo itinerario è Casale, capitale storica del Monferrato. Oggi si presenta come un vivace centro cittadino, ma è sotto le famiglie di Gonzaga e di Savoia a raggiungere l'apice del suo splendore storico e culturale. Piazza Mazzini, dove spicca l'imponente statua di Carlo Alberto, rappresenta il cuore dell'abitato casalese ed offre uno scorcio molto bello della torre civica. Per vedere il castello cittadino bisogna spostarsi a nord dell'abitato. Pensate che è solo uno dei tanti manieri del Monferrato, una zona anticamente abitata da potenti signori che gareggiavano costruendo maestose fortificazioni a testimonianza della propria potenza e superiorità. Il castello di Camino, a detta di molti, è il più bello della regione. Impressiona la sua torre alta ben 44 metri ed è legata alla leggenda di due sposi che molti fantasmi vagano al suo interno in cerca di serenità. Si prosegue poi lungo il Po, fin quando a Cantavenna, dove si produce il rubino, si apre un panorama impari su alcune catene montuose come il Monviso, il Cervino, il Monte Bianco e il Monte Rosa. Situato in una posizione dominante della Valle del Po, il castello di Gabiano è uno dei più antichi dell'aria e risale all'VIII secolo d.C. Gaviano, di proprietà dei Cattani Adorno Giustiniani, domina la Valle Cerrina. Qui, l'opera degli attuali marchesi non si limita alla produzione di pregiati vini, ma anche all'attività alberghiera che emerge i visitatori in un contesto fiabesco. Inoltre, i suoi bei giardini ospitano uno straordinario ed insolito labirinto, progettato intorno al 1930. Con le nostre strade abbiamo raggiunto il Parco Naturale di Sacromonte di Crea, una delle mete principali di pellegrinaggio piemontesi. all'interno si scorge la cappella della Madonna di Crea, dal volto orientale. secondo una leggenda, pare sia stata dipinta dall'apostolo Luca. 23 cappelle conducono il santuario attraverso un suggestivo percorso. La più bella è sicuramente quella del paradiso, con una volta fatta di angeli che paiono sospesi. Con le nostre strade ci addentriamo tra le piccole vie di San Giorgio Monferrato. Sul culmine del borgo si erge un castello che in passato serviva da dimora campagnola, mentre oggi è un elegante relè chateau. Puntiamo verso est per raggiungere Valenza, la città dell'oro, così chiamata per gli innumerevoli laboratori e negozi orafi che la caratterizzano, arte introdotta dal maestro Vincenzo Melchior, che qui fondò la sua prima industria di lavorazione dell'oro. Prima di partire per un viaggio ricordatevi di misurare la pressione delle vostre gomme. Non è solo una questione di sicurezza, ma così facendo si riducono i consumi e anche l'usura delle stesse gomme. Una delle particolarità della chiesa di San Calogero di Sale è il suo campanile, più vecchio di mille anni rispetto al resto della struttura. Infatti venne costruito tra il V e il VI secolo come torre militare e solo in un secondo momento è stato affiancato da una costruzione religiosa. Nell'alto Monferrato, che abbraccia le colline monferrine poste più a sud, visitiamo Silvano Dorba, rinomata specialmente per due preziose distillerie che producono grappe con metodo discontinuo a Bagnomaria alla Piemontese. Dominata dal castello privato degli Adorno, si affaccia sui ruderi di una città. fortezza primitiva risalente al 1182, mentre altre rovine, dette torrazze, fanno intuire che il paese sia stato fondato in epoca romana. Il Monferrato è l'area con la maggior densità di castelli per chilometro quadrato d'Europa. Il maniero di Cremolino offre una visuale eccezionale sull'alto Monferrato e grazie alla sua altura è possibile osservare 14 dei 28 castelli presenti nell'area. Il maniero di Cremolino offre una città. Diciamo un'altra cosa che faremo con il corso del realizatore del Nonferratoje. Alla prossima, allora è qui. Il maniero di Cremolino offre una città. Il maniero di Cremolino offre una città. Il maniero di Cremolino offre una città. Cremolino offre una città. Acquiterme è una graziosa stazione termale del Monferrato. Questa è la famosa fonte della bollente, nell'omonima piazza. La sua acqua sulfuria sgorga una temperatura di 75 gradi. Queste acque preziose erano già note agli antichi romani, che qui costruirono sontuosi bagni. A testimonianza di ciò, lungo la Bormida, vicino al ponte Carlo Alberto, notiamo i ruderi di un antico acquedotto romano, strutturato in archi e colonne che, come fantasmi solitari, comprovano un trascorso storico assai animato e vivace. Risaliamo poi verso nord, costeggiando ancora una volta un fiume, la Bormida, sino a Castellazzo, dove visitiamo il santuario della Madonna di Creta, che custodisce la Madonnina Patrona dei Centauri. In una saletta posta alla destra della navata centrale sono esposte alcune moto, mentre le mensole appoggiate alle pareti conservano caschi ed immaginette ex vuoto. Grazie a tutti! Non lontano ci accoglie la straordinaria cittadella di Alessandria, una splendida fortezza a pianta stellare dell'VIII secolo, che sorge sulla sponda sinistra del Tannaro. Oggi è un parco cittadino dove è possibile passeggiare tra i diversi quartieri militari, l'antico ospedale, gli imponenti bastioni e i suoi straordinari sotterranei. Questo itinerario ci ha portato alla scoperta del Monferrato, dei suoi dolci saliscendi collinarie e dei suoi bellissimi manieri. Con le nostre strade vi salutiamo dalla porta reale della cittadella di Alessandria. Mi raccomando, sempre con prudenza, un saluto da Lele e Laura. Ciao!